Sassone, gli uomini non sopportano quando tu li lasci e gli sbatti il telefono in faccia. Allo? Qui? Ui, 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 ui. Ma sei normale, eh? Tutti i miei racconti delle storie incredibili. E sono incassata, certo, ma... Cosa? Cosa è quest'altra storia? La mappa non è il territorio. Ma... Ma cosa c'è? Ma fu di... Non è né foto di Platone, del tuo Platone. Sei chi la mappa? Io sono la mappa? E tua moglie il territorio? Oh, il territorio e tua moglie, io sono la mappa. No, ma guarda, basta, la esageri veramente. Ma che cosa racconti ancora? Dove vai a trovare queste cose? Ma tieniti il tuo Platone. Guarda, io sono la mappa e il territorio. E basta. Se non ti compiene, resta con tua moglie. No, ma... No, 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 ma... E così, oh? Ma... Ma lo fai apposta? Mi provochi per litigare così, sei tranquillo? E che... Tua moglie? Tua moglie è un'azienda di mutuo soccorso? E solo un'azienda di mutuo soccorso? Ma che soccorso? Soccorso stradale? Ma di che cosa parli? Ma non ti vergogni? Ma pure manchi di rispetto a tua moglie? Ma ci prendi vele cretina, tutte e due? Soccorso! Oh... Terribile, sono triste. Sì, è terribile. Poverino, povero uomo. Non ti cucina tua moglie? Non ferma a mangiare? Sta solo con i suoi nipotini? E dà il suo seno solo al suo figlio? Sei privato di seno? No, ma guarda, basta, ora basta. Basta, basta, veramente. No, non ne posso più. Guarda, veramente, delle cazzate che racconti. Quindi... Basta. Chiuso. Non voglio più sapere niente. Sei... Guarda, non so se piangere o ridere. Non ho mai sentito delle cose così da nessuno. Ma dove le vai a trovare queste storie? Ma veramente è una fantasia, guarda. Rispetto, ho molto rispetto per la tua creatività. D'accordo? Ma guarda, lasciami in pace. Non mi rompere più i coglioni. Tieniti tua moglie, tieniti la mappa, il territorio, il suo soccorso di muto e di non so che cosa. E lasciami in pace. Finito, chiuso. Non voglio mai più sentire parlare di te. Basta. Non sei solo uomo, ce ne sono tanti, eh? Ok? Ciao. Vaffanculo, stronzo. No ma... Vi rendete conto? La mappa, l'itinerario, Platone... E' un impegno istituzionale, sua moglie. E' un'azienda di mutuo soccorso. Ma... Pfff... No ma... No ma... Si è anguagliabile. Tre anni, con un cretino così, che mi prende per il culo. Eliminato. Finito. Chiuso. Potrei... Ucciderlo.